EOS M5 è la mirrorless top di gamma della Kano una fotocamera molto compatta e allo stesso tempo molto tecnologica perché eredita molta tecnologia presente sulle reflex in particolare della EOS 80D ne parliamo diffusamente nel nostro video di presentazione che trovate sul nostro sito qui invece in questo video l'abbiamo provata sul campo, l'abbiamo provata in un nostro viaggio in Irlanda volevamo viaggiare leggeri e per cui abbiamo portato con noi uno zoom tuttofare un 18-150 mm che equivale all'incirca a un 27-225 mm quindi avevamo a disposizione con un solo obiettivo dal grand'angolo alla tele un obiettivo che ci ha permesso di fotografare i soggetti più disparati adesso vediamo nel dettaglio il nostro test e i risultati che abbiamo ottenuto e i risultati che abbiamo ottenuto e i risultati che abbiamo ottenuto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti